L'estate dei giovani, al via le attività estive della pastorale giovanile. Quest'anno c'è anche un cammino verso Roma. Dal 6 al 12 agosto i giovani spezzini, insieme ai coetanei di tutte le diocesi liguri, cammineranno a piedi da Rapallo alla Spezia per poi raggiungere il Circo Massimo e il Papa. A fianco al Corpus Domini in città, la riflessione del Vescovo. Circa 2.000 persone hanno partecipato domenica scorsa alla processione per le vie del centro della Spezia. Poi i due ricordi, quello di Una vita per la cultura e la fede, Pier Giorgio Grasso Peroni si è spento nei giorni scorsi a 84 anni. E poi la scomparsa ad Arcola di Ines Betta Montanelli. A centropagina invece una manifestazione negli organi della storia di un popolo, gli antichi organi delle chiese torneranno a suonare appunto nella rassegna organizzata dall'Associazione Cesar Frank. A fondopagina famiglie cristiane protagoniste di Annuncio. Inizia domenica prossima a Casa Massà un corso per operatori di pastorale familiare. Redattore sarà Don Stefano Salucci, docente a Roma. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.